nuovo appuntamento insieme a facciamo finta che ben ritrovati un saluto e un ringraziamento ai fedelissimi veterani gli abbonati sostenitori del nostro canale un abbraccio anche al buon mesbet in regia in premier questa sera insieme a noi abbiamo andrea cionci al quale diamo subito il ben arrivato per la prima volta sul nostro canale mi fa un sacco piacere ospitarti come stai grazie gianluca buonasera un caro saluto a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione che ha un titolo veramente evocativo perché è proprio è proprio il caso di dire facciamo finta che papa francesco sia il legittimo papa ecco noi di qua bravo partiamo di qua da questo libro che fra l'altro poi dopo ricorderemo che codice ratzinger che però diciamo che è dall'inizio che qualcosa non torna questa questa dicotomia questo dualismo questa bipolarità che rispecchia poi il mondo intero ma che ha fatto risuonare un po di campanellini d'allarme nel momento in cui abbiamo avuto due papi e abbiamo anche rischiato il terzo e magari poi te lo chiederò più avanti però intanto arriviamo a codice ratzinger arriviamo nel momento in cui accade qualcosa in vaticano e ci ritroviamo con delle dimissioni e l'arrivo di un nuovo papa partiamo di qui nell'11 febbraio 2013 in modo del tutto inaspettato papa benedetto sedicesimo durante il concistoro con i cardinali pronuncia un brevissimo discorso appena 1700 battute in latino perché josef ratzinger è un latinista di primissimo livello in questo discorso quello che si capisce che lui si dimette si dimette subito dopo la giornalista l'agenzia giovanna chirri lancia tutto il mondo la notizia che papa benedetto ha abdicato ha rinunciato al pontificato insomma da lì parte tutta una sequela di avvenimenti si arriva a un nuovo conclave e viene fuori il cosiddetto papa francesco io nel 2020 ho cominciato questa inchiesta perché diciamo c'era una situazione veramente surreale no con due papi due vestiti di bianco che vivono tutti e due in vaticano uno è l'emerito ma questo istituto giuridico non esiste non esiste perché è impossibile dal punto di vista teologico e canonico mentre il bescovo emerito è il bescovo in pensione infatti si scrive con la giuridica con sgomento da un'intervista in massimo franco al correre della sera che papa benedetto ripete da otto anni il papa è uno solo senza mai spiegare quale dei due allora questa cosa avrebbe dovuto mettere sull'avviso anche un collega che scrive per un giornale di quartiere con tutto il rispetto cioè non c'è bisogno di essere dei geni per capire che c'è qualcosa sotto no è stato fondamentale poi l'incontro con il frate italo americano alexis bugnolo grande traduttore dal latino medievale che per la prima volta mi ha fatto riflettere su un dato sconcertante questo breve scritto in latino che fu letto da papa benedetto conteneva due grossi errori di sintassi e altrettanti diciamo circa una ventina di imperfezioni stilistiche che furono tutte riportate sulla stampa a caldo dal professor luciano canfora grande filologo di bari e dal professore tedesco latinista anche lui wilfrid stro che si lamentarono del fatto che diciamo la cultura del latino fosse così scaduta tanto che perfino un documento di rilevanza storica come la declarazione di un papa abdicatario presunto tale fosse fosse piena di questi errori tra l'altro scopro con altrettanto sgomento che papa benedetto scrive in un'intervista sul corriere della sera dichiara che la scritta lui stesso questa declarazione latino la scritta apposta il latino perché una lingua che conosce molto bene e ha scelto appositamente la lingua ufficiale della chiesa perché non voleva commettere errori ma come non voleva commettere errori ma scusi santo padre ma se a caldo due famosi filologi diciamo le hanno fatto fare una figura non proprio meravigliosa evidenziando due grossi errori di latino altre imperfezioni cioè come fa a dire che la sua declaratio non conteneva errori e questo diciamo è stato il mio primo contatto con il codice ratzinger che è questo meraviglioso straordinario geniale sistema di comunicazione logico con cui papa benedetto ci spiega quello che è successo a livello canonico perché noi siamo stati abituati per otto anni a percepire quella declaratio come un'abdicazione che produceva una sede vacante sapete la sede vacante quando la sede apostolica la chiesa è pronta per un nuovo conclave è pronta per accogliere un nuovo papa siamo stati abituati a leggerla così ma quello che io ho scoperto è che non era affatto una dichiarazione di abdicazione che si sarebbe dovuta chiamare peraltro renunziazio renuncia ma era un annuncio di sede impedita ora che cos'è questa sede impedita non è nulla di come posso dire cavilloso o estraneo al diritto canonico tanto che c'è un canone 335 che dice esplicitamente quando la sede apostolica è vacante o totalmente impedita nulla si cambi nel governo della chiesa universale quindi noi abbiamo che la sede impedita è il pandan la situazione sorella diciamo così della sede vacante ma è diversissima è diversissima perché mentre la sede vacante ha un papa morto o regolarmente abdicatario la sede impedita ha appunto un papa impedito cioè prigioniero confinato in questo caso che cosa succede che il papa impedito rimane papa è come un re che viene detronizzato buttato giù dal trono ma mantiene la corona mantiene il titolo dire allora siccome l'essere papa l'investitura di papa il munus petrino è dato direttamente da dio al successore di pietro successori san pietro se si convoca un altro conclave quando il papa non è né morto né abdicatario ma prigioniero impedito appunto viene fuori un antipapa ed è quello che è successo con l'elezione di francesco per cui un conclave composto da veri cardinali assolutamente legittimi si sono però riuniti in un conclave nullo invalido perché non è stato compreso che benedetto sedicesimo non aveva lasciato la sede vacante ma ha lasciato la sede impedita ora benedetto sedicesimo ha applicato un sistema anti usurpazione che era pronto da almeno trent'anni è come se avesse tirato una leva di emergenza un po' quando quei piloti da caccia vengono colpiti e e tirano la leva del sedilino iettabile no e saltano via con il paracaduto lui ha attuato questo piano di emergenza che era stato preparato insieme a giovanni paolo secondo fin dal 1983 in che modo innanzitutto da un punto di vista canonico prima del 1983 perché il papa abdicasse bastava che rinunciasse all'ufficio papale dall'83 in poi la cosa si complica si sdoppia cioè vengono riconosciuti due enti diciamo così dell'ufficio papale uno il titolo l'investitura divina il titolo di papa il munus petrino la corona di cui vi parlavo poco fa e l'altro il ministerium cioè la possibilità di esercitare il potere pratico che consegue e dipende dall'avere il munus petrino questo sistema che viene è stato mutuato dal cardinale ratzinger dal diritto dinastico tedesco il cosiddetto furstenre non vi impressionate è una cosa abbastanza semplice quando nel fine cinquecento il trono d'inghilterra viene usurpato dalla protestante elisabetta prima tudor ai danni di maria stewart cattolica i principi tedeschi si preoccupano perché anche in centro europa c'erano le guerre di religione e diciamo temevano delle usurpazioni dei vari principati e vari staterelli in cui era frammentata la germania e parte dell'austra allora cominciano a mettere in relazione questi due aspetti se tu hai il titolo dinastico il titolo genealogico tutto in ordine allora puoi legittimamente governare cioè se sei il figlio primogenito dell'angravio del badenbuttenberg per dirne una allora puoi governare puoi succedere a tuo padre che è defunto ma se sei il nipote il cugino il genero il suocero il fratello cadetto il fratello illegittimo quello che è no mi sono spiegato assolutamente ecco quindi il munus petrino visto che lo concede dio se il papa deve abdicare deve restituire a dio il munus petrino non il ministerium infatti il canone tre tre due paragrafo impone che per la dedicazione del papa questi non to e rite cioè corretto dal punto di vista formale e giuridico e papa benedetto ha fatto l'esatto opposto invece di rinunciare al munus in modo simultaneo e perfettamente corretto ha rinunciato al ministerium in modo differito e per giunta anche in modo sgrammaticato senza peraltro ratificare nulla dopo l'ora x che lui aveva previsto per l'entrata in vigore di questo provvedimento perché lui che cosa disse disse siccome il munus petrino l'esercizio del munus petrino mi è diventato troppo pesante per la mia ingravescente età per la mia età anziana dichiaro di rinunciare al ministerium in modo che alle ore 20 del 28 febbraio 2013 la sede di roma resterà vuota e non vacante come è stato tradotto in italiano questo è stato un elemento di svolta quando grazie all'aiuto di alcuni latinisti anche universitari e tra questi il professor gianmatteo corrias che diciamo ha proseguito con l'aiuto alla mia indagine molto molto in gamba abbiamo scoperto che quel verbo vacet che era stato tradotto con sede vacante invece da un punto di vista puramente letterale banalmente così schietto significa sede vuota e infatti tutto torna perché il 28 febbraio ricorderete che papa benedetto prende l'elicottero bianco fa un bel volo su roma e si trasferisce a castel gandolf questo avviene intorno alle 5 di pomeriggio in modo che lui mantiene la promessa e per le ore 8 di sera per le ore 20 lascia vuota sgombra libera la sede di roma la sede di san pietro come le chiama lui e che questo verbo bacet debba essere tradotto in senso letterale come sede vuota è stabilito sia dal fatto che la rinuncia al ministerium non produce sede vacante come abbiamo detto perché serve la rinuncia al muro ma anche per un bar a un fatto ancora più banale che la sede di roma la sede di san pietro sono espressioni fantasiose diciamo così non usate prima di allora nel diritto canonico in questo senso e non hanno personalità giuridica per essere lasciate vacanti perché l'unica che può essere lasciata vacante è la sede apostolica tutto chiaro fin qui gianluca c'è qualcosa di complesso io non nel senso questo era è doveroso riuscire a spiegare queste questi tecnicismi perché in realtà io che non sono un vaticanista da subito abbiamo un po notato nel fare qualche ricerca la differenza e quindi magari tu ce lo puoi spiegare ancor meglio delle dimissioni da vescovo di roma che sono che non è la stessa cosa dell'essere papa quindi questa differenza vorrei che tu ce la ce la spiegassi bene sono due cariche che coincidono ma chi si dimette dall'una non necessariamente si rimette dall'altra no ma è papa benedetto non si è dimesso neanche dalla carica di vescovo di roma papa benedetto è l'attuale vescovo di roma l'attuale pontefice in sede impedita quindi bergoglio sta cercando di confondere le carte con questa cosa dicendo a non sarò papa emerito ma sarò vescovo emerito di roma cioè tutta una una fuffa per gettare fumo negli occhi ma non c'è non c'è da fare confusione la sede o è vacante o è impedita perché sia lasciata vacante il papa deve rinunciare in modo simultaneo libero e corretto al munus benedetto sedicesimo ha fatto l'esatto contrario ora se il papa non può esercitare il ministerium cioè il suo esercizio del potere pratico che cosa vuol dire ovviamente che ha impedito che qualcosa gli impedisce di esercitare il potere pratico quindi è il sistema anti usurpazione è molto semplice se rinunci al munus c'è l'abdicazione se rinunci al ministerium c'è la sede impedita è pulitissima la cosa il bello sai qual è gianluca che sia munus che ministerium vengono tradotti in italiano con la stessa parola ministero quindi quando papa benedetto dice candidamente da quel sant'uomo che è che dice sempre la verità e riesce a dire sempre la verità pur essendo in sede impedita lui dice io ho validamente rinunciato al mio ministero certo ma quale dei due il ministero munus il ministero ministerium i giornalisti bergogliani mainstream si accontentano della prima della prima informazione a che bello ha rinunciato al ministero quindi è tutto apposto chi invece va a scavare torna le fonti va a vedere nella declarazione lui si riferisce al ministero ministerium che lo manda in sede impedita quindi quando il collega aldo maria valli rifiuta di parlare della questione dicendo eh vabbè ma papa benedetto ha rinunciato al suo ministero sì ma quale dei due il ministero ministerium che lo manda in sede impedita e quindi in questo modo bergoglio si è stato reso antipapo ora mi chiederete perché benedetto ha applicato questo piano anti usurpazione perché era diciamo la situazione era diventata insostenibile con batilix che voi tutti ricorderete del del 2012 quando il maggiordomo paolo gabriele rese note alla stampa delle lettere che erano nel cassetto di papa benedetto è venuto fuori questa realtà cioè innanzitutto lo strapotere del segretario di stato cardinale bertone perché c'erano diverse lettere di cardinali che si lamentavano del fatto che bertone facesse e disfacesse a comodo suo senza intervistare papa benedetto e questa cosa è dimostrata dal fatto che nel maggio 2012 il presidente loior gotti tedeschi fu silurato dal segretario di stato senza che papa benedetto ne sapesse nulla tanto che alcuni dicono pure che si mise a piangere perché erano amici e quindi lui si ritrovò con questa questa assurdità del fatto che il presidente della banca vaticana venisse licenziato da un momento all'altro senza che lui ne sapesse poi il batilix ha fatto emergere un complotto per fare fuori papa benedetto il cosiddetto mord complotto di cui ha scritto il collega marco lillo del fatto quotidiano in più in più c'era una situazione internazionale politica e mediatica di pressione assoluta vi ricorderete che era un periodo in cui uscivano casi di pedofilia da parte di predi in continuazione no sembrava che ne uscisse uno al giorno era una sorta di bombardamento mediatico per distruggere la figura della chiesa e delle e del suo rappresentante cioè il papa il santo padre benedetto specifiche concludo dicendo che uno dei panorami più esaustivi su questa su questa diciamo congiura dei poteri forti internazionali progressisti e mondialisti ai danni di papa benedetto la dipinge involontariamente il suo arci nemico il filosofo ateo di sinistra paolo florester cais che in un libello del 2010 intitolato la sfida oscurantista di ratzinger fa un dopo un doppio favore al santo padre primo perché mette in luce come la sua fedeltà ai valori del cattolicesimo tradizionale quindi rispetto dalla famiglia la morale sessuale la contrarietà all'aborto e tutta una serie di istanze che ben conoscete lo rendeva un elemento assolutamente da rimuovere per il procedere di quelle istanze globaliste mondialiste che già diciamo avevano rimosso i i principali caporioni della dell'africa settentrionale con la cosiddetta primavera araba no dopo che dafi e quegli altri doveva essere rimosso anche benedetto sedicesimo perché monarca assoluto di uno stato che manteneva fede manteneva in vita dei valori che non potevano essere più accettabili per il procedere di queste ma eh Floresta Arcais paradossalmente eh ha fatto un enorme favore a benedetto anche difendendolo dal fuoco amico perché la situazione paradossale è che non è che il cattolicesimo la cattolicità è divisa in due quelli che tengono per Bergoglio e quelli che tengono per benedetto no non è così c'è un terzo fronte aperto da Monsignor Viganò Monsignor Schneider eh e gli altri tradizionali dei vacantisti per cui costoro sono fermamente convinti che Papa Benedetto ci abbia quasi cioè che ci abbia più o meno volontariamente infilati in questo disastro perché perché è modernista secondo loro ora siccome cinque anni l'articolo di Monsignor Viganò fa riferimento a un a uno scritto di Ratzinger di quando aveva venticinque anni venticinque anni ci rendiamo conto è vero che in gioventù il giovane teologo bavarese attraversò una una parentesi modernista progressista dalla quale si emendò grazie all'incontro con il teologo Hans Urs von Balthasar anche egli ritenuto uno pseudo modernista ma non lo è affatto anche perché era l'arcinemico del principe dei modernisti che era il gesuita Karl Rahner quindi come faceva essere modernista anche lui ma poi ricordiamo che Papa Benedetto ha ripristinato la messa in latino il betus ordo la messa tradizionale che fin dai tempi del concilio di Trento e anche prima naturalmente perché attinge fin dai tempi degli apostoli che è la messa cattolica per eccellenza che non si vedeva più dai tempi di di Paolo VI come fa a essere modernista uno che ha ripristinato la messa in latino che andava peraltro anche diciamo in giro e si mostrava eh con tutti gli orpelli e gli accessori tradizionali del del pontificato non per vanità come malignavano eh giornalisti più più idioti ma per per dimostrare la continuità della tradizione nella chiesa lui indossava i paramenti di Giovanni ventitresimo di Pio IX di Pio XII e degli altri pavi del passato splendidi bellissimi per dimostrare questa continuità con la chiesa con la chiesa quindi a un certo punto Papa Benedetto e con il concetto da questi poteri a a togliersi di mezzo ha tirato la leva di emergenza quello che ci colpisce è che in realtà col senno di poi eh hanno voluto fare in fretta e furia questo questo cambio per ragioni di salute ma l'ironia della sorte ha voluto che almeno dalle notizie che arrivano in realtà eh Francesco stia ben peggio cioè nel senso si 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 arrivati anche arrivavano notizie che fosse che stesse malissimo e che fosse prossimo a un nuovo cambio di guardia pare che gli rimanesse anche poco da vivere quindi per assurdo benedetto sedicesimo sta meglio eh quindi Ratzinger sta meglio di eh Francesco sì eh chiaramente a 95 anni il Santo Padre è una persona fragile dal punto di vista fisico ma è in ottima forma per quello che è consentito per la sua età soprattutto è di una lucidità eh estrema di una lucidità estrema l'unica cosa che che riferiscono le persone a lui vicine che parla con una vocina sottile molto sottile è difficile sentirlo ehm e questo diciamo è un po' una metafora di quello che è il suo linguaggio perché il codice Ratzinger effettivamente è una vocina sottile che solo chi ha orecchie per intendere riesce a capire ma volevo riallacciarmi all'inizio della tua della tua osservazione il problema sapete qual è il problema è che non è che esce di scena Bergoglio esce di scena Benedetto sedicesimo tutto torna a posto no non funziona così perché perché Bergoglio che non è il papa ma un antipapa ha nominato 122 cardinali falsi invalidi dei quali 83 circa sono elettori ora se anche uno di questi partecipassi a un prossimo conclave verrebbe fuori un altro antipapa verrebbe fuori un altro antipapa che non avrebbe il munus petrino e che quindi da un punto di vista della fede non sarebbe assistito dallo spirito santo non sarebbe infallibile ex cattedra non sarebbe assistito nel nell'esercizio del magister ordinario secondo l'articolo otto nove due quindi in tanti si stupiscono dal dal cosiddetti una cum gli una cum sono i cattoconservatori che però sono legittimisti di Bergoglio e sono veramente ostinati eh il paradosso è che costoro parlano malissimo di Bergoglio ne dicono peste e corna tutti i giorni ma lo lo riconoscono come papa in questo modo non fanno altro che screditare lo spirito santo perché com'è possibile che lo spirito santo assista a un papa malvagio un papa capo della deep church un papa che ha consegnato la chiesa ai poteri forti del mondo come sostiene Monsignor Viganò cioè io veramente non saprei dove guardare al posto suo perché è una una blasfemia dire che lo spirito santo può assistire un papa può assistere un papa del genere o è papa o lo spirito santo o voglio dire o Bergoglio ha ragione e allora va bene tutto va bene la pace a ma ma va bene vanno bene le unioni civili gay va bene tutto quello che avete contestato perché lui è assistito dallo spirito santo e quindi vede più lontano di voi oppure se non vi va bene se vedete che c'è una discrasia fra quello che lui dice e la fede cattolica e fatevi una domanda probabilmente non è il papa l'ultima di oggi che ho pubblicato sul libero Bergoglio ha detto che i preti che non danno la soluzione sono dei delinquenti allora per 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 una un sillogismo normale anche padre pio e il santo curato d'Ars dovevano essere dei delinquenti perché perché a norma del canone novecentottanta cioè secondo le leggi della chiesa il prete può rifiutare o differire la soluzione se il penitente non è realmente pentito o diciamo se sta affrontando un cammino di purificazione e non è ancora pronto per per farti un esempio se c'è un uomo adultero che ha una relazione extra coniugale va dal prete si confessa però ancora non si sente pronto per troncare questa relazione extra coniugale il prete non gli può dare la soluzione gliela deve differire gli dice figlio mio adesso vedi un po' che devi fare quando hai ti sei tirato fuori da questa situazione di peccato torna e ti darò la soluzione è come quando andate dal medico il medico dice no adesso non si può fare questo intervento perché lei non è nelle condizioni fisiche per poterlo sostenere quindi è del tutto normale quindi dicendo una cosa di una tale gravità Bergoglio ha detto praticamente che padre pio è un delinquente perché lui non dava la soluzione anzi addirittura a volte cacciava male parole dei fedeli che andavano a confessarsi chiaramente lo faceva diciamo per dare loro una benefica strigliata tanto che molti di questi di queste persone che si sono confessate a padre pio lo ringraziavano per questo modo burbero con cui lui li cacciava perché faceva capire loro la necessità di un pentimento profondo e radicale di questo io ti volevo anche chiedere perché allargando un po' lo sguardo questo bipolarismo questo stato nello stato tu prima parlavi di deep church che intorno un po' alla mente ovviamente il deep state quindi ogni stato combatte con il proprio deep state e guarda caso al di là della questione presidenziale degli stati uniti in cui si sono avuti praticamente di fatto due presidenti ma quello che tu hai detto sul la non correttezza in questo caso anche di un ulteriore passaggio anche chi studia in oriente molti mi hanno detto guarda che da tempo in alcune scuole iniziatiche sanno che per come viene in qualche modo riconosciuto e eletto tra virgolette il dalai lama non è più diciamo canonicamente la reincarnazione reale quindi è stato in qualche modo strumentalizzato quindi anche la figura del dalai lama quindi non è più da vedersi in ambito religioso come quella reincarnazione come quella riproposizione di quel tipo di anima e di un certo tipo di fede e quindi non può essere un caso no quello che stiamo vivendo no ma è tutto collegato gianluca cioè la madre di tutte le battaglie adesso potrà sembrarvi pazzo quello che vi sto per dire ma tutto dipende dalla questione del papa tutto le questioni sulla pandemia le questioni sulle guerre le crisi economiche le crisi politiche energetiche tutto diciamo ruota intorno a un'impostura gigantesca che è quella di questo antipapato fateci caso succedono delle cose atroci l'altro giorno papa benedetto ha mandato monsior genswain alla presentazione del libro ha detto potrete credere o non credere la risposta nel libro di geremia vai a leggere il libro di geremia c'è scritto a lettere di scatola e geremia disse a baru io sono impedito e non posso entrare nel tempio del signore cioè più chiaro di così forse papa benedetto poteva solamente stendere un lenzuolo dalla sua finestra che ho scritto io sono il papa e sono insieme nonostante una frase del genere nonostante un episodio grottesco assurdo eh kafkiano come quello della lettera falsa di monsior genswain e tu ne hai percepito qualcosa di questo episodio ne sai qualcosa ecco tu immagina che un prete conosciuto in tutto il mondo da centinaia e centinaia di migliaia di persone come don alessandro minutelli scomunicato ridotto lo stato legale naturalmente tutto invalido perché è combinato da un antipapo ha ricevuto una lettera falsa di monsignor genswain dove si diceva che papa benedetto celebra in comunione con vergoglio monsignor genswain ha detto che il contenuto di questa lettera è una menzogna cioè che la lettera è un falso ed è una menzogna quindi il contenuto è falso è una menzogna quindi che vuol dire vuol dire che benedetto non celebra in comunione con francesco perché perché non è il papa ti sembra di blasi ha lasciato totti che ti faccio ripetere l'ultima frase pensi che sarebbe stato il caso anche mi senti è andata via un attimo la connessione quindi ti abbiamo perso se mi riprendi solo l'ultima cosa stavo dicendo quando prima di laribasi è ritornato proprio su laribasi allora io credo che diciamo se se qualcosa del giornalismo in vent'anni ho compreso è che questa è una notizia abbastanza interessante no anche perché poi si è scoperto che la licenza word con cui era stato scritto scritta questa lettera falsa aveva come nome ariel levi di gualdo cioè questo ariel levi di gualdo che è l'arcinemico di dommi nutella che è un prete arcinemico di dommi nutella anche abbastanza noto in televisione il suo nome risultava come proprietario della licenza word con cui è stato scritto questo documento falso allora io credo che appunto tra una notizia su hillary blasi e una notizia su belen rodriguez forse anche un trafiletto su questa vicenda si potesse inserire sui grandi giornali no non dico un articolo di prima pagina perché in prima pagina ci vanno le le stupidagini ma un trafiletto una spalla un una cosetta così quindi questo ti fa capire scusa e concludo ti fa capire come questo argomento sia il tabù assoluto per tutti tutti si guardano dal toccare anche solo di striscio questo argomento perché se tocchi questo crolla tutto il resto quello che mi fa strano è che per un periodo pensavo le cose fossero molto semplici in realtà vedo una tra virgolette una grande complessità perché ti dico questo vedo lo your in cui voci sempre più incessanti raccontano di un avvicinamento al fallimento e la cosa che mi ha lasciato in qualche modo estere fatto è come se questa diatriba in realtà continuasse questo tiro alla fune questo gioco tra le parti poiché abbiamo visto papa francesco uscire con dichiarazioni anche tutto sommato forti per esempio ha parlato del dell'abbaiare della nato ai confini con con putin per poi quasi immediatamente pochi giorni dopo ritrattare tutto come se fosse veramente un'altra persona come se soffrisse di bipolarismo sì ma vergoglio utilizza questa tecnica io lo chiamo il signore del patos contrapposto al signore del logos che è benedetto sedicesimo che appunto il legittimo vicario del logos cioè il cristo cioè il verbo incarnato il verbo la ragione che svela la verità vergoglio invece essendo agli antipodi come antipapa il signore del patos quindi lui controlla le masse attraverso le emozioni fateci caso quanto è buono papa francesco quanto è accogliente ci manda tutti in paradiso quanto è misericordioso solamente zucchero 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 che sta facendo ammalare di cancro il cattolicesimo anzi l'ha già fatto ammalare di cancro e in stato quasi terminare quindi lui non ha alcun interesse a seguire un un percorso logico di aderenza a quelli che sono i dettami della fede perché non ha la fede perché non è cattolico anzi è anticattolico lui ha un credo che si avvicina molto alle credenze massoniche a quel motto solve et coagula cioè sciogli e annoda e bafometto e bafometto infatti la maria che scioglie i nodi guarda caso è la divinità falsa una falsa divinità mariana che lui ha spinto in tutto il mondo e che si rifà al rito magico dei nove nodi poi vi racconterò delle cose allucinanti quindi lui scioglie e annoda fai disfa si adatta al vento che tira eh prima aveva detto che faceva la consagrazione della russia poi e poi hanno protestato gli ucraini allora è diventata la consagrazione della russia e dell'ucraina poi non so chi ha protestato ancora ha detto vabbè allora facciamo tutto il mondo vabbè ma che lasciamo fuori la chiesa aggiungiamoci pure la chiesa e poi vabbè ma che io rimango fuori allora metto pure me stesso qui da che doveva essere la consagrazione della russia è diventata la consagrazione di tutti quanti purtroppo sai anche ti volevo chiedere una cosa che mi ha incuriosito perché non ne parla nessuno ma io ci ho visto una grande stranezza al di là di un fantomatico progetto di una religione unica mondiale di un viaggio che mi colpì in medio oriente con iraq afghanistan alcune tappe di un viaggio del papa mi sono state veramente poco chiare e apparentemente non hanno avuto una spiegazione cioè il mainstream non si è anche degnato di spiegare il perché di questo viaggio l'ha annunciato punto fra l'altro facendo vedere anche la visita di alcuni posti veramente caratteristici in cui in teoria non si spiega come mai abbia fatto quelle soste e quelle tappe per quel tipo di visita sembrava un enorme rituale sì ma ti basti pensare quello che è successo di scandaloso in canada in canada lui è stato accolto con una strana cerimonia di benvenuto da uno sciamano inuit con le piume in testa che mentre teneva un piccolo bracere nella mano sinistra con la mano destra sventolava un'erba fumante ha detto e ora preghiamo la nonna occidentale perché ci faccia accedere al cerchio degli spiriti in modo che potremo essere più uniti e più forti insieme ora questo in questo è successo mentre bergoglio era presente con dei porporati del suo seguito ed era partecipe perché aveva una mano sul cuore gli occhi socchiusi l'espressione compresa quindi era del tutto partecipe di questa cerimonia religiosa che per la dottrina cattolica non è altro che un atto di necromancia cioè evocazione degli spiriti evocazione dei demoni perché quando tu evochi gli spiriti per la dottrina cattolica stai evocando degli spiriti maligni e io ho approfondito ma chi è questa nonna occidentale la nonna occidentale non è altri che la cosiddetta nonna ragno la nonna ragno è la madre terra degli inuit ed ha la simpatica abitudine diciamo nella mitologia dei navaco di lanciare la sua ragnatela addosso ai bambini per divorarli non so ma a me non sembra che sia molto una figura mariana non so come non mi risulta che la madonna lanci la sua ragnatela addosso a dei bambini per divorarli mi sembra un po maloc che richiede un sacrificio guarda caso anche lì in ambito ma è sempre la stessa pappa è sempre la stessa storia la grande madre la madre terra che ce la propina in continuazione la paciamama la madre terra andina con l'unione degli opposti con il guerriero cornuto con il teschio in fronte nel presepe 2020 in piazza san pietro questa unione degli opposti ricorre nella maria che scioglie i nodi con l'angelo maschio e l'angelo femmina assurdo perché tutti sanno che gli angeli non hanno sesso no cioè è anche un proverbio un banale proverbio popolare un modo di dire ma di cosa stai parlando del sesso degli angeli cioè parli di un argomento inesistente perché gli angeli come creature spirituali non hanno sesso eh quindi diciamo nelle divinità di questo panteon esoterico di Bergoglio che non ha nulla a che vedere con il cattolicesimo state in guardia state in guardia l'altro giorno scoperto un'altra cosa agghiacciante lui è devotissimo della della icona è andato a fare la centesima siamo fermi a lui è devotissimo dell'icona sì lui è devotissimo di un'icona molto antica che è conservata in santa maria maggiore a Roma che si chiama salus pubblica popoli romani ora nel nei nove anni del suo antipapato ha visitato questa con almeno cento volte e anche quando non era antipapa da arcivescovo di buenos aires andava spessissimo a trovare questa icona qua dov'è l'inghippo è presto detto è presto detto perché il nome di di salus ora facendo specificando che l'icona in questione è un'icona mariana assolutamente lecita con una grande tradizione si dice addirittura dipinta da san luca ma questo nome che l'è stato attribuito dopo di salus pubblica popoli romani rievoca la dea salus pubblica popoli romani che era una dea romana raffigurata come una bella donna che dava da mangiare a un serpente e questa storia del serpente ricorre in tutte queste immagini pseudomariane tanto che la maria che scioglie i nodi soprattutto nelle ultime rappresentazioni che ha ricevuto bergoglio si vede che non pesta la testa al serpente non schiaccia la testa del serpente anzi quasi lo accarezza oppure lo tiene per la coda ma assolutamente non non mostra segni di quella inimicizia con il serpente che invece è contenuta nella bibbia nella genesi quando si dice alla donna io porrò inimicizia fra te e il serpente ora questo questo è un discrimine importantissimo perché invece la grande madre la divinità arcaica pagana pre cristiana della madre terra la madre di tutto la madre dell'unione degli opposti del ciclo di rinascita eccetera è strettamente amica e legata al serpente tanto che ovunque ricorre l'iconografia di questa donna raffigurata in parte lasciva ma in parte feroce perché perché essendo la dea della vita e della morte ha diciamo delle caratteristiche sia sessuali erotiche che anche terribili come appunto la morte che questa dea e questa data e poi c'è sempre anche il tema dell'unione degli opposti nella grande madre quindi la la figura mariana fasulla bergogliana ha sempre queste caratteristiche l'unione degli opposti il maschile il femminile contrapposti l'amicizia col serpente la dimestichezza col serpente la presenza della terra il numero 9 e nastri annodati quindi siamo in presenza di una religione oscura pericolosissima che non ha nulla a che vedere con il cattolicesimo e anzi lo vuole sovvertire dall'interno a tal proposito c'è questa fantomatica sala nervi in vaticano che è palesemente raffigurante un serpente che idea ti sei fatto e che versione come mai c'è che che spiegazione dalla versione ufficiale di questa simbologia del serpente in vaticano ma sai questi sono ambiti nei quali si rimane sempre nel campo dell'opinabile è vero che da una certa prospettiva alla sala nervi può ricordare il muso di un serpente ma ti possono dire sempre vabbè ma è un caso sei tu che sei malizioso che ci vuoi vedere questo ci vuoi vedere quest'altro eccetera quindi io non entro tanto in questo tipo di ehm iconografie simbologie che lasciano dei margini di ambiguità eh ti posso dire questo che Bergoglio non è che nasce dal nulla Bergoglio è il il prodotto del della parte malata del concilio Vaticano II perché durante il concilio hanno attecchito e prosperato quelle frange massoniche eretiche apostatiche moderniste che hanno conquistato gradatamente sempre più posizioni all'interno della chiesa anche attraverso un clero omosessualizzato da loro stessi eh inserito nei gangli vitali del della chiesa il cui frutto è Bergoglio ma non è come dice Monsignor Viganò che Bergoglio è il frutto naturale di questo processo no perché c'è stato un golpe c'è stato un colpo di stato è come dire nella Russia nel 1917 erano 50 anni che il bolshevismo covava prosperava tramava cospirava ma a un certo punto c'è stato il colpo di stato i Romanov sono stati rovesciati e si è instaurato il bolshevismo mi spiego quindi un conto è individuare la 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 genesi lo sviluppo di un processo ehm vecchio di decenni e un conto è poi evitare di di riconoscere quello che è stato un momento traumatico di sovvertimento di rovesciamento della legalità. A tal proposito ti volevo chiedere appunto questa vicinanza coi Rothschild anzi la prendo la larga il ruolo dei Rothschild e del papato perché queste foto hanno fatto veramente il giro del mondo no? Dunque le foto di lui che bacia la mano a degli ebrei sì ma su quello devo non in quanto ebrei perché in quanto infatti su quello devo fare un'operazione di sbufalamento nel senso che quelli non erano i Rothschild ma erano dei dei reduci dei campi di concentramento eh degli scampati dei campi di concentramento che ai quali lui bacia le mani perché lui bacia le mani a tutti però non si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento cioè anche questa non è una follia avete il Papa che da sempre non si inginocchia davanti all'Eucaristia. Ora se c'è un uomo al mondo che obbligatoriamente deve inginocchiarsi davanti all'Eucaristia è proprio il Papa. Chi altri più di lui? Nessun altro no? Nessun altro. E Bergoglio da molto prima di accusare questi dolori al ginocchio da molto prima fin dall'inizio non si è mai inginocchiato. È riuscito a farlo inginocchiare solamente Papa Benedetto XVI quando lui è andato a trovarlo a Castel Gandolfo. Allora diciamo con quel suo fare mite, mitissimo, delicatissimo, lo ha accompagnato ad inginocchiarsi insieme a lui davanti al Santissimo davanti a un altare preconciliare. E quando voi vedete Benedetto XVI e Bergoglio che si scambiano affettuosità non è come sembra. Voi state assistendo a qualcosa di gigantesco, di millenario. Infatti Papa Benedetto dice la mia amicizia personale con Francesco è cresciuta. Perché? Perché è un'amicizia monodirezionale. È solo lui che prova amicizia. È un'amicizia appunto personale. Quindi lui ama il suo nemico e prega per il suo persecutore. Esattamente come ha fatto Gesù Cristo nell'Orto degli Ulivi durante l'ultima cena trattando Giuda da amico dicendogli fai quello che devi fare lasciandosi baciare e tradire da Giuda facendosi mettere in prigione, fustigare e fino fino ad arrivare alla croce. Quindi voi state assistendo a qualcosa di inimmaginabile, di inimmaginabile. Tra l'altro di questi discorsi in realtà qualche anno fa erano veramente, non dico tabù, ma quantomeno di nicchia. E in realtà tu col tuo libro è un best seller. Quindi qualcosa sta realmente accadendo anche a livello di risveglio, se non di coscienza, quantomeno di attenzione in confronto a determinate tematiche. Sì, guarda, è una cosa incredibile quella che sta succedendo. Perché Don Minutella fin dal 2018 ha portato avanti, immagino che tu conosca Don Minutella, quel sacerdote siciliano che dal 2018 grida al mondo che Papa Benedetto è ancora il Papa. Lui non aveva colto ancora la questione della sede impedita, ma aveva evidenziato subito che la declarazione di abdicazione non era valida. Quindi Benedetto era rimasto Papa, che lui lo volesse o no. Don Minutella è stato attaccato, è stato scomunicato, poi ridotto allo stato laicale e messo in un bozzolo di incomunicabilità, diciamo. Non se lo filava nessuno, nessuno ne parlava, era vietato parlarne. Poi è arrivato il sottoscritto che sul suo blog di Libero ha cominciato ad affrontare la questione, in modo molto serrato, con una media di di cui la maggior parte sul Libero, poi su Bio Blu e poi su Roma It. Per poi arrivare alla pubblicazione di questo libro, Codice Ratzinger, edito da Bio Blu nel maggio, a fine maggio 22, che ha venduto 12.000 copie e che da settembre è stato presentato in una decina di città italiana, ma non per intervento dell'autore o per intervento della casa editrice o delle librerie, ma per il puro interessamento di cittadini che si sono messi insieme e si sono tirati fuori soldi, hanno pagato le sale per le conferenze, hanno pagato il viaggio, l'alloggio al sottoscritto, per organizzare delle conferenze che hanno una durata media di quattro ore, ma che non sono assolutamente noiose, la gente rimane letteralmente ipnotizzata, ma non per la bravura dell'autore del libro, perché io dico sempre che questo non è il libro di Andrea Cionci. Cioè, io esordisco alle mie presentazioni dicendo che non è la presentazione di un libro e soprattutto non è neanche il libro di Andrea Cionci, perché è la rivelazione di un segreto, di una realtà millenaria per bocca del Santo Padre Benedetto XVI e per questo io non voglio farmi vedere in video durante queste interviste per una questione di rispetto, di pudore verso il Santo Padre, perché è lui che parla, è lui che rivela questa cosa gigantesca, diciamo il sottoscritto, è solamente una pedina, è solamente una pedina insieme a tutti quelli, io chiamo l'esercito di Papa Benedetto, che si stanno attivando nel modo più vario, quelli che traducono gli articoli, quelli che organizzano le presentazioni, quelli che adottano i vescovi, cioè regalano loro il libro, lo acquistano e glielo mandano, vescovi, cardinali, ne abbiamo contattati oltre 200, quelli che agiscono sui social, quelli che scrivono, danno spunti, materiale, un esercito di migliaia e migliaia e migliaia di persone che si sta attivando e che sta finalmente ruggendo. Ti dico e concludo che per scoprire questa falsa lettera, io avevo individuato subito per primo che il mittente era fasullo e va bene, ma poi ho ricevuto da esperti informatici che venivano dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Germania, mi hanno mandato i risultati, le proprietà di quel file che era scaricabile gratuitamente dal sito di questo Donario e Levi di Gualdo e hanno individuato che la licenza Word apparteneva proprio a questo Levi di Gualdo, oltre a individuare tutti gli artifici con cui era stata falsificata questa lettera. Cioè è un popolo che sta ruggendo in difesa del suo contegno. Domanda, Secca, sei ottimista per il futuro? Sì, sono decisamente ottimista perché quello che non hanno capito i Bergogliani è che c'è un countdown in corso. Cioè ci sarà un momento in cui sicuramente il Santo Padre Benedetto non sarà più in sede impedita. Questa situazione canonica sarà esplicitata finalmente in tutto e per tutto e l'antipapato di Bergoglio sarà cancellato dal primo giorno all'ultimo. E con questo saranno cancellati anche tutte le sue nomine, tutte le sue riforme liturgiche, tutti i suoi cambiamenti, tutti i suoi provvedimenti. Solamente il prossimo Papa, successore di Benedetto XVI, potrà decidere cosa salvare di quanto fatto dal suo predecessore illegittimo. Quindi è una realtà che si sta affermando con la lentezza di un carro armato. Cioè in modo inesorabile, lento ma in modo inesorabile. È un trend diciamo solamente in crescita. Se penso a un anno fa, un anno e mezzo fa, in cui nessuno mi si filava, adesso vengo intervistato continuamente, faccio una media di due o tre interviste a settimana e mi posso avere idea del fatto che questa cosa prima o poi bucherà anche sul mainstream. Anzi faccio un appello, se c'è qualche collega che scrive per qualche grande giornale, io sono a disposizione. Gli mando il libro, possiamo parlarne, anche per attaccarmi, perché voglio dire io non mi sottraggo minimamente al confronto. Il problema è che fino adesso il confronto è stato del tenore. Cionci ciancia, cionci è imbecille, è cretino, è idiota, è pazzo, è immorale, è diabolico. Capito? Diciamo poco colloquiali, poco aperto al dialogo, ecco, mettiamola così. No, diciamo per nulla, aperto al dialogo, ma solo all'insulto. Ma a me fanno un favore perché dimostrano la loro enorme difficoltà. Enorme difficoltà. Ti basti pensare che la stessa figura di Don Minutella è un enorme atto d'accusa per Bergoglio. Perché? Perché se questo prete è convinto per qualche bislacca sua interpretazione che Benedetto non abbia abdicato e Benedetto ha realmente abdicato, che cosa ci voleva a chiamarlo? Un pomeriggio in Vaticano gli si metteva presso l'ultimo dei canonisti. Don Alessandro, guarda, ecco, mettiamoci qui, carta e penna, ti spiego perché la rinuncia al ministerium va benissimo, va benissimo come come ente a cui rinunciare per abdicare al papato. Don Alessandro si metteva il cuore in pace, tornava a pascere le sue pecorelle e buonanotte ai suonatori. E invece no, la sospensione a Divinis, due scomuniche, la riduzione allo stato laicale, le persecuzioni sulla televisione. Insomma, è ridicolo, no? Vedo una sorta di déjà vu, un modus operandi già visto che sta colpendo in ugual misura su più ambiti, in più parti del mondo. Quindi sicuramente è una situazione mondiale questa, Andrea, ma io vorrei che tu ci dicessi dove trovarti, come contattarti e come acquistare il libro. Grazie, ti ringrazio molto Gianluca. Allora, potrete trovare l'inchiesta Papa e Antipapa pubblicata gratuitamente su BioBlu in 60 capitoli. Potete acquistare Codice Ratzinger o Cartaceo o via ebook dovunque, ordinandolo in libreria, anche su Amazon, come volete. Se siete inglesi o spagnoli, parlate queste lingue, c'è anche la traduzione in lingua spagnola, in lingua inglese, in ebook. Poi c'è il gruppo Telegram Andrea Cionci, non prevalebunt. Potete seguirmi su Twitter, dove io carico tutti i contenuti di interesse sulla questione. I gruppi Facebook Codice Ratzinger e poi su YouTube presto comparirà un canale dedicato proprio a Codice Ratzinger. Se volete scrivermi per mandarmi suggerimenti, anche contestazioni o contributi di varia natura, scrivete a codiceratzinger.it. Grazie. E io direi che per questa puntata è tutto, ma è un arrivederci. Se vorrai, se ti sei trovato bene, di tanto in tanto verremo a trovarti per gli sviluppi, perché sono sicuro che ci saranno sviluppi e sono sicuro che non dovremmo neanche aspettare troppo. Così, a sesto senso, c'è quell'aria un po' frizzantina. C'è elettricità nell'aria, sì, hai ragione. Grazie Gianluca, mi sono trovato benissimo. Siete una trasmissione fantastica. È proprio la quiete prima della tempesta. Noi ci sentiamo presto, grazie a tutti voi che siete stati insieme a noi, veterani, fedelissimi abbonati e nuovissimi arrivati. Continuiamo a crescere, un abbraccio a Mesbet in regia, direi promo, sigla e appuntamento alla prossima. Grazie di tutto. Grazie a voi. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono quattro i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30, in diretta. Sostienici, abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci. A te A te A te A te A te Grazie a tutti.